Come una sera a Napoli è un evento che si celebra qui a Carlopoli e noi siamo insieme al titolare di Old Mill della pizzeria che ospita questa serata e insieme a Luciano Sorbillo che credo il nome dica già tutto. Ci volete raccontare di che cosa si tratta? Se portate questa sera la napoletanità nel Reventino o la Reventinità a Napoli? No, no, portiamo tutte e due le cose. Io in realtà sono qui per testimoniare che la pizza napoletana, la pizza, la si può mangiare bene anche a Carlopoli. Non diffidate da quelli che dicono che è una cosa perché è nata in un territorio, ha quel valore in più. Filomena Spilotro è l'esempio di chi con passione, dedizione e amore è riuscita a fare suo un prodotto che viene da millenni di storia. Quindi Filomena è proprio a testimonianza di questo. Io sono soltanto qui per testimoniare la capacità, la bravura professionale di una persona che ha creduto in un concetto, in un prodotto, ama Napoli perché in realtà la città, la patria di dove sono nate le hanno sfornato le prime pizza e poi è femmina. E la pizza è femmina. C'è poco da dire, no? Tutto quello che fanno le donne. Io dico sempre che una donna vale due, un uomo vale uno. Lei è femmina. Si vede da come tocca all'impasto, dalla cura nei dettagli e ha un vantaggio in più rispetto a chi vive in una grande città. C'ha degli ingredienti che utilizza sulle pizze che sono non a chilometro zero, che ne mancano un chilometro, a metri zero perché utilizza materie prime del territorio e questo per me non solo è un grande motivo di orgoglio, ma è bellissimo lavorare con una professionista del settore che si trova in una realtà che è molto piccola ma nonostante tutto continua a crederci e a rendere felici i palati di tutti i calabresi che la vengono a trovare. Beh, parole al miele sicuramente, ma io credo tu te lo sia veramente meritato. Grazie. Io sono onorata ma anche tanto emozionata di avere il maestro Luciano Sorbillo qui a Carlopoli e a lavorare al mio fianco. Emozionatissima direi. Grazie. Allora, qual è l'invenzione per questo, visto che lei si inventa sempre, ha questo qui di in più rispetto agli altri, che riesce a inventarsi anche al momento, a cambiare come si dice in corsa, no? E qual è questa sera, quale sarà? Ci vuoi dare un'anticipazione se hai qualcosa in mente che ti frulla per la testa? No, io qualcosa ho sviluppato però, dire il vero, lascio fare al maestro. La verità, io ho detto faccio così, faccio in quel modo, faccio in quell'altro. Dico quindi preferisco che comunque ci sia collaborazione però che sia lui, diciamo, a dare la parola finale, va? La accendiamo allora? Allora, questa è l'umiltà di chi sa fare le cose, no? Perché nella vita secondo me esistono due categorie di persone, c'è chi la fa e chi la racconta e lei è una che le cose le fa. Quindi un grande professionista si vede da questo. Il professionista difficilmente dice io, lavora e basta, e lei è una che lavora e basta. Quindi io non sto sviolinando nulla perché lei ha vinto un trofeo in MSC dove si è, ci tengo a ricordarlo, si è sfidata con i 30 pizzaioli forse più bravi non solo in Italia ma in Europa e non era facile. E si vince dove non stai a casa tua, è come una squadra di calcio, il risultato è più bello quando è fuori campo, no? Perché si è andato ad espugnare un campo degli avversari. E ha vinto a Roma un trofeo importantissimo che secondo me va ricordato, che è il ritorno alle origini, dove realmente hanno dovuto preparare non solo gli impasti con gli ingredienti di una volta, quindi non potevano utilizzare nemmeno il lievito di birra, hanno dovuto lavorare con il lievito madre, ma è quello che fa la differenza, è quello che fa capire quando una persona questo lavoro lo fa con amore. Perché è come il caffè. Cioè se io devo prendere un caffè, io me lo devo prendere dove ci sta uno che me lo fa con passione, perché se no il caffè non è buono. E quando la pizza è fatta con passione è nata cosa. Se poi te la mangi con le mani hai vinto. A tutto questo che cosa rispondiamo? Da oggi cambia qualcosa per te, forse c'è una svolta. A me piace sempre restare con i piedi belli piantati a terra. E lo sappiamo. E la testa sempre bella per aria, per comunque sognare cose nuove, comunque immaginare sempre cose buone per me e per il mio locale ovviamente. Vi aspettiamo tutti ragazzi, mi raccomando, vi aspettiamo tutti stasera. Siamo già sold out, però se riusciamo a dare la possibilità a qualcun altro di gustare la nostra pizza, di trascorrere una bella serata come a Napoli, noi siamo qua, ma non mancherà occasione. Stasera abbiamo preparato un menù simpatico e ne possiamo fare altri. Di cose belle. Viva la Calabria, viva la Campania e viva chi fa questo lavoro con amore. E allora a questo punto buona pizza a tutti quanti con Luciano e con Filomena che stasera dirizieranno i palati di chi avrà la fortuna di assaggiare le meravigliose pizze che prepareranno.